Salve a tutti, Alessio Santoni, agronomi. Oggi voglio approfondire il discorso fatto domenica riguardo al post sulla quotazione dei bitcoin, la moneda elettronica, sul mercato americano, sulla borsa americana, nel mercato dei futures sui bitcoin. Beh, oggi il bitcoin ha fatto variazione del giorno più 3% quasi, mentre il litecoin ha fatto un più 226% in sette giorni. Ma il significato di quel post è semplice. Come nessuno o quasi nessuno ha investito in bitcoin circa 3 anni fa, 2 anni fa, soprattutto nell'ultimo periodo, non ha creduto al bitcoin, la stessa cosa stanno facendo gli agricoltori. Cioè, se la tecnologia non fa, se non si dà fiducia alla tecnologia, è chiaro che tutto resta fermo. come nessuno ha creduto nei bitcoin perché pensava fosse una bolla speculativa oppure un qualcosa di irreale, ma invece il bitcoin si basa su una decifrazione a livello di rete e quindi è qualcosa di sicuro. La stessa cosa devono fare gli agricoltori, cioè devono cercare di migliorare non solo a livello tecnologico le loro aziende, ma anche a livello di gestione dell'azienda e quindi di approccio al mercato e all'immissione sul mercato dei propri prodotti. Non possiamo più pensare di gestire l'azienda alicole come le stiamo gestendo oggi. La globalizzazione ci sta offrendo prodotti a basso costo e l'agricoltore italiano non può competere con quei prezzi, per cui dobbiamo pensare di produrre prodotti di qualità ma soprattutto tipici. Ma non basta, bisogna saperli mettere sul mercato con nuovi sistemi di marketing. Quello che sta succedendo col bitcoin, che poi è qualcosa di semplicissimo, nato da una persona che ha creato tutto questo sistema, ha creduto nella moneta elettronica, una moneta elettronica molto sicura, che si basa sulla blockchain, un sistema sicurissimo, dove probabilmente qualcuno ha già pensato, cioè ha già, non pensato, però ha capito che in quella struttura lì, informatica, potrà essere la base per, ad esempio, il catastro, o per altri flussi di dati. Quindi agli agricoltori bisogna cambiare il sistema di produrre, bisogna cambiare il sistema di porre i prodotti sul mercato, il consumatore deve capire ciò che mangia, il consumatore deve vedere dove viene prodotto, come viene trasformato e come viene messo sul mercato. Oramai tutto è globalizzato, qualsiasi persona oggi può prendere un prodotto alimentare e portarlo in qualsiasi posto del mondo, lo acquista da un continente e lo trasporta dall'altro continente. Quindi come è possibile, come è pensabile che l'agricoltura italiana si possa basare sui vecchi sistemi di produzione? Questo non è una critica a nessuno, questa è una critica al sistema agricoltura, quindi tutti quelli che partecipano alla filiera agricola devono farsi un esame di coscienza, qui tutti quanti, dai tecnici all'impresa agricola, al mondo sindacale, al mondo politico, non è possibile continuare in questa maniera, perché i prodotti arrivano da qualsiasi parte del mondo, a qualsiasi prezzo, a qualsiasi tipo di qualità, quindi se vogliamo stare sul mercato dobbiamo pensarla come chi ha creato il bitcoin, chi creò il bitcoin lo creò perché aveva una visione del futuro, la stessa cosa la debbono avere gli agricoltori, ma tutto il mondo che gira nel settore agricolo, se non si ha una visione del futuro diversa, dinamica, noi saremmo invasi da altri stati, da altri prodotti esteri, quindi bitcoin e agricoltura non hanno nulla a che fare vero, ma l'agricoltura deve prendere come esempio da chi generò il bitcoin e come lo ha sviluppato nel tempo, buona agricoltura a tutti, buon lavoro a tutti e alla prossima, ciao ciao